Ma non è chiuso. Ma non è chiuso comunque l'altro lato. Che è successo? Niente. Io vincino. Arbitro, tu dove abiti? Attacco, subito. Uno. Uno! Uno! Uno, uno! Uno, uno! Uno! Uno, uno, uno! ь! Carmozzaru! a c'è il 3 l'agonismo forza ciccio il 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 E' il rattore. Oh, ma questo è un pozzano. C'è Beppe! Oddio! No, io devo vedere se l'ho presa.